Ciao e benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl, questa volta dedicata a come comunicare il nostro brand sui social, cosa non semplice, oggi social media sono canali quasi necessari, non è più qualcosa che possiamo ignorare, però imparare a comunicare in generale, poi imparare a farlo all'interno dei social non è sicuramente impresa facile, non è qualcosa che amiamo fare tutti e che però dobbiamo imparare. Ecco perché in questa puntata di Impact Girl insieme alla nota sociolinguista italiana Vera Gheno andremo a scoprire come possiamo comunicare in modo efficace il nostro brand sui social, come possiamo fare per trovare nuove idee, come possiamo comunicare senza esaurire le batterie, le pile, perché poi la creatività ovviamente ad un certo punto va a quel paese, come gestire i famosi haters o trolls che dir si voglia e quali sono i brand da seguire per trarre ispirazione e moltissimo altro. Sarà una puntata molto pratica quindi assicurati di avere carta e penna alla mano. Prima di lasciarti alla nostra puntata ti ricordo di iscriverti al canale YouTube di Cecilia Sardeo, ossia a moi, su YouTube, non soltanto iscrivendoti ma anche aggiungendo l'attivazione della campanellina che troverai accanto al pulsante iscriviti, questo perché altrimenti non riceverai le notifiche ogni volta che esce un nuovo video e sai che di video ne escono continuamente ogni mese. Se invece stai guardando la puntata da beats-academy.it slash podcast, quindi il sito di Impact Girl, ti invito ad iscriverti gratuitamente alle newsletter per ricevere ogni nuova puntata in arrivo e non perderti nemmeno un aggiornamento. Si parte! Oggi parliamo di come comunicare il nostro brand sui social network. Lo faremo con qualcuno che di comunicazione e di parole se ne intende parecchio, lo faremo con la guida di Vera Gheno. Ciao Vera e grazie per essere qui. Ciao, ciao a tutti, ciao. Tu Vera sei una sociolinguista, insegna all'Università di Firenze e Siena e hai collaborato anche o tuttora collabori con l'Accademia della Crusca, giusto? Sì, allora no, con Siena ho smesso ma collaboro ancora con l'Accademia della Crusca e in più collaboro da diverso tempo anche con Zanichelli, fondamentalmente per le cose legate al vocabolario Zingarelli, quindi sempre parole nella mia vita, la mia vita è piena di parole. Insomma queste parole sono il tuo pane quotidiano, non è così però per molti di noi, per molti di noi le parole in realtà sono qualcosa che usiamo in maniera quasi non dico automatica, ma senza pensarci troppo, con una certa leggerezza soprattutto quando ci cimentiamo in canali quali social network, che sono canali che molti di noi percepiscono come canali che sono costretti ad utilizzare, perché ormai non hai più scelta, no? Se hai un brand che sia un personal brand o un corporate brand, è chiaro che le persone parlano di te, che tu ci sia o che tu non ci sia, quindi forse è meglio darci un'occhiata, essere presente e moderare e comunicare, solo che molti di noi si trovano proiettati in questi canali senza conoscerne le regole del linguaggio. Il linguaggio è vero, l'ho visto succedere, è proprio vero, però non è così strano, cioè vorrei tranquillizzare gli animi, nel senso che noi non nasciamo imparati, nessuno ci ha insegnato effettivamente a stare online, cioè stare online è una competenza ancora più specifica che non stare al mondo, no? Per cui magari i genitori e i docenti ti dicono come fare per stare al mondo all'interno della società, ma in realtà questo passaggio di informazioni su come stare sui social o in generale online, purtroppo molto spesso non può arrivare da quelli che normalmente ci passano le informazioni, ovvero i nostri docenti o i nostri genitori, insomma ci dobbiamo un po' arrangiare, ma non è impossibile. Ecco, a questo proposito vorrei aggiungere quella che io percepisco come una barriera ulteriore che molte donne, vedo, si trovano ad affrontare o meglio a crearsi da sole, il fatto cioè di non voler utilizzare questi canali per paura di fare marketing, per paura di esporsi, l'idea del io ho un bellissimo progetto ma mi piace fare quello e non voglio farmi promozione e quindi il rischio qual è? Quello appunto o di utilizzare questi canali male, senza preparazione, magari perché non si ha il tempo o la guida necessarie, oppure di scegliere di accantonarli completamente ma se non parliamo mai del nostro brand, di quello che facciamo ed è quello che ci dà da vivere, è quello il nostro obiettivo, è chiaro che mai nessuno ne sentirà parlare, mai riusciremo ad avere l'impatto che potremo avere altrimenti. Quindi aiutaci concretamente a capire innanzitutto quali sono alcuni strumenti efficaci che possiamo utilizzare per comunicare su questi canali senza sembrare delle marchette. Allora io vorrei fare prima tutto un passo indietro. Allora alla base di tutto il sistema anche della comunicazione online e anche della comunicazione del se online ci sta una caratteristica che per fortuna abbiamo tutti semplicemente in quanto esseri umani, cioè questa è una grandissima fortuna cioè che è proprio la competenza della parola. Cioè noi siamo gli unici se vogliamo così animali che hanno questo incredibile potere di comunicare non solo una necessità immediata, quindi non dobbiamo solo dire ho fame, ho sete, sto male, ma possiamo anche elucubrare sulle cose cioè fare dei pensieri astratti e è anche vero quello che tu dicevi all'inizio, poiché noi nasciamo con questa competenza, ovviamente se siamo in una situazione standard e non abbiamo dei deficit vari assortiti, la diamo un po' per scontata, cioè noi cresciamo e facciamo tantissimo esercizio sulla parte formale, quindi la grammatica, l'ortografia, la sintassi eccetera, c'è una cosa che molto raramente si fa a scuola e che invece oggi è ancor più importante di prima che è comunicare nella maniera corretta a seconda dei contesti, cioè si parla molto spesso di comunicare e basta, cioè scrivi bene, non sbagliare, mettila in ciliegie, no, cioè dico cose un po' banali così, ma mi chiedo quante persone, anche di quelle che ci ascoltano, abbiano mai, si siano mai sentite chiedere dal proprio professore perché parliamo e perché è importante, come dire, parlare in un certo modo se sei a colloquio col Presidente della Repubblica, parlare in un altro se sei con la nonna e addirittura a parlare o scrivere in un altro modo ancora quando sei online. Allora, la prima cosa che io penso sia importante sia, penso che sia recuperare la centralità della parola, cioè se noi non abbiamo le parole giuste non possiamo comunicare bene. Come si fanno ad avere le parole giuste? Primo consiglio, leggere, cioè l'unico modo per farsi un arsenale molto ricco di parole è quello di leggere tantissimo e non leggere per forza Tolstoi o non lo so, cose, i provessi sposi, bellissimi, cioè servono anche quelli, leggere qualsiasi cosa, cioè avere un approccio testuale alla vita, perché noi in realtà viviamo in un contesto che è pieno di parole, abbiamo poster intorno, pubblicità, giornali, scritte sulle magliette, scritte sui muri. Allora, la prima cosa è accendere questa specie di sensibilità nei confronti della produzione ovviamente orale ma anche scritta che abbiamo già intorno, perché più leggiamo e più ci rendiamo conto intanto se ci sono degli errori, per esempio vedere che un perché è scritto con l'accento sbagliato, no? Questa è una cosa che uno è difficile imparare, che impari a tavolino, è molto facile impararla guardando testi scritti e l'altra cosa è imparare parole nuove. Più abbiamo parole a disposizione, più riusciamo ad essere precisi nel veicolare il nostro pensiero e anche più siamo sicuri, sicure, visto che il pubblico è prettamente femminile, cioè in realtà molta della sicurezza che uno può ostentare in un contesto comunicativo deriva da una salda presa sulle parole. Questo era cappelletto introduttivo, molto generico mi rendo conto. No, non è generico invece, infatti volevo aggiungere, prima di lasciarti procedere, un'esperienza che ho avuto proprio di recente, che non mi aspettavo devo dire, proprio con la lettura. Io parto avvantaggiata perché a me è sempre piaciuto leggere, sono cresciuta in un contesto familiare dove l'invito alla lettura era costante, ma da qualche tempo cominciavo ad annoiare, a percepire il mio modo di scrivere come qualcosa che mi annoiava un pochino e credo sia una cosa che capita un po' a tutti, no? Siamo molto autocritiche nei confronti di quello che facciamo, poi noi donne lasciamo stare. E mi ero messa a leggere in quel periodo Moby Dick, che è un libro pesantissimo, mai avrei pensato che un libro potesse, un romanzo potesse essere così pesante e noioso da leggere perché alcune parti sono terribili, cioè estremamente monotone e scritte in un modo estremamente arcaico rispetto al modo in cui comunichiamo oggi, soprattutto nel digitale. E però io sono una che deve finire le cose, per cui anche un libro se mi fa schifo io lo devo finire perché l'idea di lasciarlo a metà mi dà fastidio, quindi mi sono un pochino armata di pazienza, ho detto dai che alla fine poi è stata anche una bella lettura. Ma quello che è successo a distanza di qualche giorno è che ho scritto qualcosa sui social, adesso non ricordo potrei recuperare il post, non ricordo esattamente quale fosse, con uno stile completamente diverso dal mio solito che riprendeva una modalità un pochino particolare nell'utilizzo delle preposizioni, delle congiunzioni, nell'utilizzo delle frasi brevi, che avevo acquisito in questo libro. Lo stesso stile che inizialmente mi era pesato così tanto e che invece poi contestualizzato, adattato al mio modo di parlare, mi ha permesso di scrivere un post che tra l'altro è andato molto bene, che, porca miseria, non ricordo di essere rimasta colpita sia dal fatto che avevo cambiato stile, sia dalla reazione che ha avuto il pubblico che mi segue, anche se non mi ricordo di cosa parlasse. Però è stato proprio un osmosi per osmosi, cioè io ho letto questo romanzo e senza neanche volerlo fare intenzionalmente mi ha passato un nuovo modo di utilizzare le parole. No, ma è esattamente quello che succede a ognuno di noi e non era un caso se Umberto Eco, mi ricordo, diceva che il lettore ha il privilegio di vivere molte più vite di solo la sua, perché uno che non legge libri vive solo la propria vita, uno che legge libri vive tutte le vite delle persone, dei personaggi o degli scrittori che incontra in queste letture, quindi non è un'apologia della lettura, perché io mi rendo conto che è molto difficile oggi avere il tempo di mettersi lì e leggere tutto un libro, è più un approccio diverso a ciò che abbiamo intorno, perché non c'è bisogno di leggere i libri, cioè anche quando uno sta online legge, quindi rinobilitiamo la lettura in tutte le sue forme. L'unica cosa, io lo dico sempre ai miei studenti, l'unica cosa che veramente differenzia il buzzurro, insomma l'ignorante ecco, dalla persona che invece ci tiene, è che magari la persona che ci tiene se incontra una parola che non conosce, va a vederne significato, perché a volte da quella parola discende tutto il senso del discorso e questo purtroppo lo vedo anche sui miei studenti che spesso viene sottovalutato, perché vabbè è solo una parola, però magari è quella che regge tutto il discorso. Allora tornando alle parole, volevo dire questo, allora in generale la parola è molto importante, noi viviamo in una società in cui diamo molto peso all'aspetto esteriore, tatuaggi, non tatuaggi, piercing, non piercing, io sono un pessimo esempio da questo punto di vista, tatuaggi, piercing e tutto, raramente ci si ricorda che la prima forma per giudicare gli altri è ascoltare quello che dicono o vedere quello che scrivono, cioè noi viviamo in una società che stigmatizza in realtà tantissimo le persone in base agli errori che fanno, cioè se qualcuno dice se io sarei un poeta canterei l'azzurro dei tuoi occhi, non esco con te, cioè lo stigma arriva al punto che per me che sono una che lavora con le parole, uno che sbaglia così è proprio, cioè non è neanche considerabile nel novero dei maschi, no? Per dire, se uno si presenta a un colloquio Rossi Maria, cioè col cognome davanti al nome, siccome di solito indica che la persona non ha continuato a studiare dopo la scuola dell'obbligo, sarebbe meglio presentarsi in Maria Rossi, ecco che magari non le viene neanche fatto sostenere il colloquio perché viene subito considerata diciamo meno competente, meno colta. Allora la parola non è un accessorio, è qualcosa di assolutamente centrale. Il giochino è prendersi il potere che le parole ci danno, cioè è proprio una questione di tu puoi fare di più conoscendo bene le parole. E la cosa da sapere è questa, che ci facciamo con le parole? Allora con le parole noi facciamo fondamentalmente tre cose nella nostra vita. La prima è ovviamente parlare con gli altri, cioè la relazione con gli altri e questo va da sé, no? Per cui se io insulto uno mi posso aspettare delle conseguenze, se gli o le dico delle parole belle ovviamente avrò delle altre conseguenze, le parole possono essere fiori o pallottole si dice. L'altra cosa che faccio con le parole ovviamente è descrivere il mondo, cioè il mio compito di essere umano è quello di attaccare dei cartellini alle cose che arrivano diciamo sul nostro pianeta senza un nome, quindi il fiore non si chiama fiore finché qualcuno non l'ha chiamato fiore. Questo c'è anche nella Bibbia, no? Che all'inizio eccetera eccetera, poi Dio porta davanti all'essere umano gli animali, i fiori e le piante e chiede all'uomo di dare loro un nome, cioè addirittura nella Bibbia che uno ci creda o no, ma è un testo diciamo di saggezza popolare, da sempre si è saputo che è l'uomo a dare i nomi alle cose, di conseguenza se ci sono cose nuove, cioè se compaiono cose nuove nella nostra realtà, quelle cose dovranno essere battezzate, ecco che nascono i neologismi su cui molti si, per i quali molti si infastidiscono, per esempio pensa ad Apericena e a quante persone ce l'hanno con questo povero Apericena, ma in realtà Apericena nasce da un'esigenza molto umana di dare un nome a un rituale che è fra l'aperitivo e la cena, cioè non c'è nulla di strano. A me interessa di più il terzo ruolo che ha la parola, che è diciamo pertinente a quello di cui stiamo parlando, che è far capire agli altri chi siamo, cioè dichiarare continuamente agli altri chi siamo. Questo tecnicamente nella linguistica viene chiamato atto di identità, cioè io ogni volta che scelgo di dire una parola o scelgo di non dire una parola sto dichiarando agli altri chi sono, che cosa penso, anche quanto ho studiato, quanto mi sento a mio agio, quanto mi piace l'interlocutore, cioè tutta una serie di cose, ma il punto è sto facendo una dichiarazione di me stessa. Tutti facciamo queste dichiarazioni costantemente, per esempio appena uno apre bocca in Italia normalmente si capisce da dove proviene, perché non c'è nessuno che parli un italiano senza accento. Ora io sono fortunata, si fa per dire, perché essendo cresciuta a Firenze ho un accento vagamente fiorentino che è ben visto, cioè è considerato un accento in, un po' come il milanese, ma se ci fai caso quasi tutte, quasi tutte le cadenze italiane portano con sé un pregiudizio che non è sempre positivo. Cioè pensa a uno siciliano, a uno napoletano, si attivano delle lucine che non hanno nulla di razionale, ma a volte possono anche pregiudicare una relazione, cioè a te stanno antipatici i napoletani, tutto rispetto per i napoletani, simpaticissimi, senti che l'altro parla napoletano e immediatamente ti sta un po' antipatico, ancora prima di aver ascoltato fino in fondo quello che può voler dire. Allora il giochino che dobbiamo fare noi è fare diventare questi atti di identità che comunque ci sono da involontari, cioè le parole mi scappano, oppure non ci penso bene, oppure non riesco a dire esattamente quello che vorrei dire, a atti volontari. Questo è il gioco, quindi pensare un po' di più a quello che si deve dire, a come lo diciamo e a come in ogni momento veicoliamo qualcosa di noi tramite quelle parole. Online il gioco è amplificato perché se dal vivo o anche in video la nostra parola ha il supporto del corpo, cioè io sto gesticolando, sto guardando, alzo e abbasso il tono della voce, online la parola è nuda, cioè è spogliata di tutto quello che noi possiamo attaccarle attorno come ausilio e quindi la parola pesa il doppio, cioè se io dico negro o se dico un'altra parola che per molti è controversa e non sanno chi sono io, non sanno come la vedo io, non sanno se sono xenofoba o no, non sanno se sto parlando per esempio con una persona di colore che quindi partecipa allo scherzo. Ecco che quella parola assume un peso gigantesco ed è quello che si vede peraltro succedere di continuo online. Persone che non è che sbagliano di per sé, ma sbagliano perché dicono la parola sbagliata rispetto al contesto in cui stanno comunicando. Quindi da un punto di vista pratico mettiamoci nei panni di una, della proprietaria di un'attività, ok? Supponiamo che sia, non lo so, una fioreria, ok? Io ho una fioreria e voglio cominciare a farmi conoscere online. Non parlo di attività, di pubblicità a pagamento, non a pagamento, io scelgo i miei social, i miei canali, ok? Supponiamo che facendo l'errore dei principianti cerchi di essere in tutti i canali, cercando di parlare la stessa lingua, che questa è una cosa che magari accenderemo dopo, ma non è bene fare perché ogni canale ha una lingua se, un linguaggio a sé. Però comunque io mi sono aperta al mio profilo, la mia pagina Facebook, con la mia fioreria, mi sono aperta Instagram, mi sono aperta Twitter, quello che è, LinkedIn. E a questo punto io ho la mia tela bianca, sono terrorizzata dall'idea di dire qualcosa che in qualche modo possa o non essere interessante, questa è la paura più diffusa, che gliene frega agli altri di ascoltare quello che ho da dire sulla mia fioreria, ok? Questa è la prima. Oppure non so da dove partire, perché poi sui social devi scrivere non solo oggi, ma anche domani, dopodomani e dopodomani ancora, altrimenti vieni dimenticato, questo è il terrore poi, no? Quando non hai nulla da perdere hai paura di cominciare, quando hai cominciato e sei decollato hai paura di perdere quello che hai guadagnato, quindi è un po' una trappola, ma questo insomma forse sarà per un'altra puntata. Quindi ti chiedo, ok, da un punto di vista pratico, io che cosa, io che non sono, magari so usare la parola, leggo qualcosa, sono comunque una persona che ha una certa cultura, però questi canali non li conosco e soprattutto non so da dove partire per dire qualcosa che non possa essere usato contro di me o che magari mi dia la conferma del mio terrore più grande, cioè non essere interessante per gli altri. Allora, intanto, secondo me la prima domanda che chiunque si deve fare è che cosa hai di interessante da dire, che sembra un po' lapalissiano, però in realtà io credo che ci sia sempre molta enfasi su quello che dobbiamo pensare, cioè che pensiamo di dover dire. Devo dire questo, devo dire quest'altro. Allora, io propongo una cosa, una ricetta forse che è un po' zen, però se ci pensi bene c'ha una sua intelligenza che è non pensare a quello che devi dire, ma pensa a quello che puoi dare. Ok, che cosa posso dare io? Ognuno di noi è irripetibile e ovviamente quando ci affacciamo davanti un mondo in cui magari ci sono, non lo so, diecimila fiorerie che hanno un'attività enorme online, hanno tantissimi like eccetera, diciamo vabbè ma noi cosa possiamo aggiungere? Ecco io posso aggiungere me, cioè quello che io posso apportare non deve essere uno scimmiottare gli altri, ma deve essere quello che posso dare io. E quello che posso dare io, secondo me per capire che cos'è, perché forse prima di partire con la comunicazione è bene capire che cosa sei e che cosa vuoi. Io darei come la, cioè come punto di partenza, i quattro principi delle massime di Grice, non so se ne conosci, si chiama Grice, era un linguista degli anni settanta, cioè anzi è un linguista che negli anni settanta ha enunciato questi quattro principi. Allora il primo dice non dire né troppo né troppo poco, è la massima della quantità, cioè tara le dimensioni del tuo messaggio e questo è la prima cosa perché nessuno ama sproloquiare, no? Nessuno ama lo sproloquio, ma nessuno ama nemmeno quello che comunica per, no? Tipo telegramma, quindi tara la quantità. La seconda cosa è massima della relazione, cioè rimani sul pezzo, cioè rimani su quello che vuoi comunicare. Attenzione perché soprattutto quando siamo a disagio noi tendiamo a fare i voli pindarici. Hai presente il classico ragazzo che si presenta poco preparato all'esame, credo sia una cosa che abbiamo vissuto tutti, mi parli di questo e tu parti dai dinosauri perché non ti ricordi, no? Ecco quello è meglio evitare. Poi c'è la massima del modo, sii chiaro, cioè quale che sia il tuo messaggio, il messaggio deve essere veicolato nella maniera più chiara possibile, il che vuol dire non ricorrere a paroloni, non essere barocco, non esagerare con la ricerca di sinonimi improbabili e queste sono tutte storture che normalmente ci inocula la scuola perché la scuola ci forma a fare un certo tipo di testo che è quello diciamo del tema, nelle sue varie sfaccettature, in cui pare che una delle cose più importanti sia non ripetere la stessa parola. Poi in realtà ci sono anche questioni di SEO che ci dicono, ma questo magari è un'altra puntata, che ci dicono che invece è meglio ribadire i concetti chiave, quindi addirittura c'è un vantaggio poi che è tecnico nel non perdersi in sinonimi improbabili. E poi c'è l'ultima massima di Grice che è la mia preferita, che è la massima del, non mi ricordo mai quale massima, ecco uno guarda che dice sii sincero e questo forse è quella centrale. Cosa vuol dire essere sinceri? Essere sinceri vuol dire non fare finta di essere chi non sei, datti onestamente, cioè dai quello che puoi dare nella maniera più onesta possibile perché, e questo forse è uno dei grandi segreti della comunicazione, dall'altra parte si sente. Cioè se tu sei sincera, per esempio sei entusiasta del tuo negozio di fiori e senza farti anche troppi problemi di forma, oddio la foto eccetera, poi quello arriva col tempo, però veicoli quella voglia che tu hai di far vedere agli altri quanto sei felice nei tuoi fiori, ecco che quello si sente, cioè non è, non è un gioco di ruolo, non è, cioè la comunicazione è qualcosa anche di molto viscerale. Noi in realtà ce ne rendiamo conto abbastanza facilmente se quello che abbiamo di fronte sta parlando di qualcosa in cui crede, di cui è convinto e anche che conosce bene, perché questa è l'altra cosa, oppure se parla di cose che non conosce bene o delle quali non è convinto. Cioè io se dovessi veicolare comunicare per una fioreria, cioè io avessi una fioreria, una delle cose che comunicherei sarebbe la meraviglia della varietà di fiori, per esempio, ma guarda te questa gerbera che colori incredibili, no? Oppure ho trovato questo insetto incredibile, no? Cioè anche le cose non per forza ha il composite bellissimo di fiori sullo sfondo, cioè. O semplicemente l'utilità di un fiore in un contesto piuttosto che un altro, laddove qualcuno che non ne sa nulla magari regala, non lo so, un crisantemo nella situazione, ecco, non lo so, per un matrimonio, adesso non credo possa succedere, però. In Asia sì, per esempio, in Asia il crisantemo è un fiore da matrimonio e a noi ci sembra stranissimo, io sono stata un matrimonio in Asia e tutti regalavano questi mazzi di crisantemi che per noi ovviamente hanno un significato completamente diverso, ecco che il cultural clash, no? Lo scontro fra culture a volte può diventare veramente interessante, però ecco, tornando a noi, sincerità vuol dire anche, e questo è un consiglio che secondo me è trasversale alla comunicazione online, parla di ciò che conosci bene e evita di intervenire senza conoscere bene quello di cui si sta parlando e questo è secondo me alla base di una ecologia della comunicazione, ora al di là del self branding o della comunicazione come brand ambassador eccetera eccetera, ma è proprio il problema maggiore che io vedo l'online, cioè si entra nelle discussioni senza avere realmente contezza di quello che si sta dicendo o della materia di cui si sta parlando, invece io sono sicura che ognuno di noi ha qualcosa in cui è cintura nera, cioè c'è qualcosa in cui siamo più bravi di tutti gli altri, almeno in potenza. Io direi che la mia competenza principale sono le parole, magari un fiorista ha l'arrangiamento dei fiori, magari qualcuno lì fuori ha la ricetta perfetta per l'uovo al tegamino o ha tutti i segreti dell'uovo oppure di come fare una certa pettinatura, cioè non siamo tuttologi, prendiamone atto, concentriamoci su quello che possiamo fare al meglio e questo secondo me è qualcosa che ci dà una sicurezza. Hai toccato, secondo me, alcuni punti chiave che da soli potrebbero trasformare, cioè potrebbero già concludere questa puntata che è ben lontano dall'essere conclusa perché abbiamo un sacco di punti che vogliamo coprire, però li voglio un attimo riprendere, beh uno quest'ultimo che hai nominato, quindi il fatto di parlare soltanto quando effettivamente siamo padroni della materia e io lo vedo accadere non soltanto nel momento in cui ci buttiamo in una conversazione, in una discussione che vediamo online e lì è facile, no? Perché poi è tutto in forma pseudo anonima, no? Possiamo creare profili fake, quindi diventa facile anche sfogarsi in maniera distruttiva, autodistruttiva e poi distruttiva anche verso gli altri, ma lo vedo accadere anche nel modo in cui a volte ci si approccia all'imprenditoria digitale che viene vista spesso come una scorciatoia, adesso per fortuna un pochino meno, ma nel senso che anche i consumatori cominciano a diventare più accorti, però nel momento in cui il web viene vista come una scorciatoia, io che non lo so, non so bene cosa fare della mia vita, decido di farmi un corso di due giorni, divento padrone, divento life coach, no? Che improvvisamente può insegnare alle persone come risolvere i traumi del passato, entro al corso sabato, finisco domenica sera lunedì, apro il mio sito e comincio a chiamarmi life coach e lì diventa molto molto pericoloso, quindi questo è un invito, è ovviamente una cosa che possiamo sapere solo noi, dentro di noi, se stiamo facendo la cosa giusta, ma è un invito magari a farsi qualche domanda e a prima di buttarsi, anche se il web fa gola, perché in effetti possiamo parlare apparentemente a tutti in un nanosecondo, provare prima a capire il perché stiamo facendo una certa cosa. Quindi questo mi era piaciuto molto. L'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo è il concentrarci su quello che possiamo dare agli altri, rispetto a ciò che possiamo dire agli altri. Io credo che questo sia veramente rivoluzionario nel modo in cui possiamo sbloccare la nostra creatività e superare quella paura di cui parlavamo all'inizio, di esporci, perché, ad esempio, se io sono un food blogger posso cominciare a buttare lì, l'ho visto fare foto di, non lo so, della mia melanzana, di parmigiana, le melanzane, senza né arte né parte, spero solo di avere dei like, dei mi piace e mi chiedo ma perché nessuno mi mette mi piace? Ma perché, che cosa stai dando a parte la foto della parmigiana di melanzane? Dammi la ricetta, condividi perché questa parmigiana è particolare, dammi un trucco che magari appunto solo tu sai perché sei una food blogger, perché conosci questo contesto, perché ami cucinare o raccontami la storia dietro questa parmigiana. Ci sono dei food blogger bravissimi che raccontano la storia del perché un certo piatto è una grande passione per loro, parlano della nonna, parlano delle situazioni di famiglia ed è bellissimo perché lì scopri anche qual è la tua voce, scopri un modo di comunicare che è o è ispirante per gli altri o è utile per gli altri. Sì, fra l'altro, a proposito di questo, la grande differenza sta nel come racconti la cosa. Allora, tu dicevi la parmigiana di melanzane, pensa se fai un canale, magari esiste perché non lo so, di cucina brutta, cioè allora la brandizzi così, la parmigiana brutta, la frittata brutta, no? E ogni tuo piatto è brutto e tu lo espliciti, cioè io sono un disastro in cucina e faccio tutte ricette da cinque minuti brutte. Bellissimo. Potrebbe essere, no, te lo dico perché uno che mi piace tanto, che fa divulgazione scientifica, è un canale che si chiama La Scienza Brutta, non so se cercatelo, lui mi sembra Barba Nera forse, comunque è un ragazzo che fa una divulgazione scientifica un po' guardate quanto sono brutti questi animali, poi in realtà ti dà delle informazioni molto rilevanti, quindi ha trovato una sua voce molto particolare, ecco a volte è la voce quello che possiamo dare, per esempio io come linguista da un punto di vista scientifico sono media, cioè sono ovviamente, ho studiato tanto eccetera, ma non sono un genio, non sono niente di speciale, ho fatto gli studi che hanno fatto tutti. Casomai la cosa in cui mi differenzio è che a me interessa particolarmente cercare di veicolare delle informazioni a chi non è linguista, quindi faccio moltissima divulgazione, a volte la faccio anche un po' cretina, divulgazione cretina, però è un po' la mia voce che non piace a tutti, però io vedo che in molti contesti invece arriva, no? Quindi sta anche nel come le racconti e a proposito della prima cosa che hai detto, noi viviamo in una società che ha anche l'illusione della velocità, cioè faccio il corso, ma lo dico anche ai miei studenti, faccio il master, ho risolto i problemi, allora comunicare fra tutte le cose è una cosa che richiede costanza e tempo, cioè non diventi neanche comunicatore di te stesso in due giorni di corso, cioè si tratta proprio di avere molto, di metterci molto impegno e soprattutto per un periodo molto lungo, infatti io e il mio collega Bruno Mastroianni con cui abbiamo scritto l'ultimo libro che si chiama Tienilo acceso, a un certo punto diciamo bisogna essere dei contadini digitali, cioè bisogna fare come fanno i contadini con il loro appezzamento, allora prima di tutto individua l'appezzamento, cioè puoi essere un latifondista oppure avere il giardinetto, no? E poi coltiva al meglio quel giardinetto lì o quel latifondo lì, sapendo che ovviamente il contadino ha una vita piena di avversità, cioè arriva il temporale, non ti crescono i semi, gli animali ti calpestano i germogli, cioè può succedere di tutto, ciò nonostante il contadino continua, noi dobbiamo un po' avere il piglio del contadino, non del cacciatore o del guerriero ma del contadino che tutti i santi giorni sa che deve andare su quel campo lì. Bellissima, e tra l'altro questo mi ricorda una cosa che insomma non so se sono stata io a dirla per prima, comunque una cosa che dico da anni, che il web non può essere il mondo digitale, non può essere considerato una scorciatoia, è una valida alternativa, è un ottimo modo per comunicare più rapidamente, ma anche i risultati stessi richiedono tempo, per cui anche il risultato della nostra comunicazione, la comunicazione del nostro brand richiede tempo, quindi una delle cose che noto spesso è lo scoraggiamento di fronte all'utilizzo di questi canali di comunicazione, che sia il proprio blog o che siano i social media, è nessuno reagisce, nessuno mette mi piace, nessuno mi segue, nessuno commenta. Cosa ti senti di suggerire, oltre ad abbracciare, perché uno dice ok abbraccio questo attitude del contadino, mi armo di santa pazienza, però non vedo nulla, non vedo risultati, cosa ci consigli di fare, cambiare strada, testare qualcosa di diverso. Cambiare campo, la scorciatoia ovviamente è iniziare a produrre contenuti controversi, cioè questo è il modo più facile, voglio dire non funziona il canale delle melanzane brutte, allora faccio il canale del full blogging sexy, funziona sempre, quello lo faccio con le scollature eccetera eccetera, ho sicuramente un sacco di like, oppure inizio a urlare improperi, no? Dico cose in maniera brutta, dico cose volgari, la volgarità, il sesso, già sono sempre le cose che, come dire, ci fanno arrivare subito in cima. Il punto è, noi vogliamo quel tipo di follower lì? Cioè quelli sono persone che a loro volta hanno delle frustrazioni eccetera eccetera e quindi ci seguono finché noi propiniamo quel tipo di contenuto. Nel momento in cui magari volessimo dire, vabbè allora adesso smettiamo con questa cosa perché in realtà non sono io, adesso vi mostro chi sono veramente, quelli poi se ne vanno, quindi si tratta di costruire una community. In realtà io lo vedo un po' con i miei profili social che non sono proprio un caso di personal branding, però per esempio io su Facebook ci lavoro, cioè faccio dei post che sono attinenti al mio lavoro. Come fanno ad arrivare ora ad avere 300, 400 like? Cioè lo so che per un influencer vero non sono grandi numeri, però per me che sono una linguista invece lo sono. Allora scrivo le cose in base a tutte quelle massime di Grice che vi dicevo sopra. Un'altra cosa che secondo me spesso è sottovalutata è l'ingaggio con chi ti segue, se anche sono tre persone, cioè qualcuno ti commenta, rispondi, qualcuno ti like vai a vedere che cosa fa l'altro e magari controlaicalo, cioè inizia a crearti una rete, non partire dal presupposto che la rete sia un broadcast, cioè non sei tu che stai comunicando a tanti, ma sei all'interno di un reticolo di relazioni e esattamente come quando inizi a fare amicizia in un posto nuovo, devi dare anche qualcosa in cambio, cioè non solo esporti e credo che tutti siano partiti così. Cioè anche l'imperatrice di tutte le influencer italiane che credo sia Chiara Ferragni da un certo punto di vista, io me la ricordo all'inizio dei tempi perché già la seguivo con un certo interesse e ha fatto questo, poi ha trovato come si dice dei partner efficaci che l'hanno aiutata, però di suo era questo, cioè lei dai picchi e mena a un certo punto tutti i giorni c'era l'outfit diverso perché c'è stato il momento degli outfit blog, no? Ora non so se, ora sono un po' dinosauro, non mi ricordo, non so se ancora vanno altrettanto, però di solito sono tutti arricchiti, però lei tutti i giorni all'inizio era un like, poi due, poi dieci, con l'Accademia della Crusca il cui profilo Twitter ho gestito dall'inizio, dal 2012, è andata così, cioè il primo post 20 like, il secondo 30, dopo un mese avevo 400 follower, poi sono successe cose strane, ad esempio nel febbraio 2016 è successo Petaloso che è stato completamente involontario e ovviamente con Petaloso noi abbiamo avuto un picco assurdo, cioè siamo passati da, non lo so, 20 mila a 40, cioè un raddoppio, però sono casi, cioè può anche essere che l'esplosione non ce l'hai mai, però io mi sento di dire che se tu entri nella prospettiva di cosa vuoi dare, presto o tardi le persone si accorgono di come sei genuino, perché alla fine la genuinità paga sempre, il punto è che non devi avere fretta, cioè questo secondo me. E non devi farlo magari con quello scopo, cioè con lo scopo di dire ah un giorno questa cosa esploderà e io diventerò l'influencer di turno, cioè partire sempre dall'utilità che puoi avere per le persone in questo momento, oggi, a prescindere da quello che può essere domani. Sì, secondo me sì, ora mi rendo conto che qualcuno dirà vabbè ma non è nulla di pratico, perché non c'è una risposta pratica, cioè io sono fermamente convinta che dobbiamo un po' superare l'idea che ci hanno un po' inoculato, che ci sono le cinque cose giuste da fare, non ci sono, non ci sono, infatti è un po', secondo me si sta tornando a un web artigianale, cioè io vedo funzionare molto bene le cose artigianali, non sappiamo esattamente cosa diventerà virale, cosa diventerà un meme eccetera, ma quando qualcuno ha l'idea quella cosa bene o male si espande, cioè pensiamo anche a se i quadri potessero parlare, non lo so, che nasce da un'idea un po' come la tela di Fontana, i tagli di Fontana, li potevo fare anch'io, certo anch'io potevo fare le sovrascritte in romanesco sui quadri, però non le ho fatte, io le ho fatte Stefano Guerrera, quello che si è inventato le frasi di Osho, le più grandi frasi di Osho, ha fatto un'operazione tutto sommato sciocchina se vogliamo, però è diventato come dire un oggetto pop quasi mitico, o Grumpy Cat, la gatta che purtroppo è defunta recentemente perché insomma era anche messa un po' male, però la gatta ingrugnita, chi poteva immaginarselo che sarebbe diventata quello che è diventato, cioè in questo momento io sto seguendo le avventure di un ragazzo che gira il mondo in bici, adesso è un po' che è fermo a Mykonos se non erro, non mi ricordo, che a un certo punto ha trovato una gattina e se l'è caricata sulla bici e lui racconta sul suo Instagram tutti i giorni la sua vita con questa gatta che lui ha salvato, con cui dorme, cioè ormai sono una coppia praticamente e a un certo punto le hanno filmati su credo The Dodo, uno di questi canali dove fanno tutte le storie belle di animali e ovviamente adesso è una specie di star, cioè c'è la gente che lo va a trovare, che si fa fotografare, come ha fatto? Ha raccontato una cosa come petaloso che è arrivata al cuore delle persone, cioè un ragazzo che gira in bici e che raccoglie la gattina orfanella, cioè mi vengo a piangere ora, capito? E probabilmente senza, questo dico, probabilmente senza la pianificazione di dire vediamo cosa, vediamo dove mi porta questo, questa cosa. Sì, esatto.